La nave della Marina Militare Anteo Una scarpadestra, una sinistra, spaiate e un pezzo della prora sinistra del relitto. Le calzature presumibilmente appartengono a qualcuno dei componenti dell'equipaggio. I reperti sono stati trasbordati e consegnati ai militari della sezione investigativa scientifica. Anche questi ultimi, come gli altri recuperati nelle precedenti ispezioni, verranno conservati in acqua salata per mantenere il perfetto stato di conservazione. Nei prossimi giorni sarà la procura di Trani a fornire notizie ufficiali circa il recupero di questi nuovi reperti e su come evolverà la vicenda da un punto di vista investigativo. Anche a Brindisi, così come la scorsa volta a Barletta, non sono mancati momenti di commozione tra i familiari delle vittime che da anni aspettano la verità e la Presidente del Comitato, Francesco Padre Verità e Giustizia, nonché figlia del Comandante Giovanni Pansini, Maria Pansini. Dopo 17 anni finalmente siamo giunti a una svolta che ci porterà, spero, all'accertamento della verità e a capire cosa è successo quella notte. Il lavoro di raccolta è stato molto difficoltoso. Bisogna tener conto del fatto, ovviamente, che sono passati quasi 17 anni e questo ha reso questa impresa davvero difficoltosa. Però l'impegno degli uomini, della Marina, della Procura, ma proprio dei singoli, perché si è letta a chiare lettere la solidarietà umana, prima che professionale, ma anche l'impegno di mezzi, ha dato dei riscontri sui quali noi siamo ottimisti.